23 e 24 marzo si celebrano in tutta Italia le giornate FAI di primavera e come ogni anno anche qui la delegazione della Spezia sul nostro territorio ha delle aperture straordinarie. La Spezia è fortemente legata con il mare e con la marina militare e quindi quest'anno, dato il tema del FAI, un ponte tra culture, la delegazione della Spezia ha deciso di attuare due aperture straordinarie, nave Italia e una Frem nave Bergamini. Grazie al FAI siamo riusciti non solo ad avere l'opportunità, a dare l'opportunità di visitare queste due realtà che sono un po' due anime diverse della stessa organizzazione che la marina militare, ma anche di farlo grazie all'azione di tanti ciceroni, questi ragazzi delle scuole della Spezia che tra l'altro ha avuto modo personalmente di verificare hanno studiato benissimo la loro lezione, sono entusiasti e questo devo dire ci rincuora tantissimo e ci dà fiducia per il futuro. Giornate FAI di primavera, come ogni anno un grande successo di pubblico e una collaborazione tra la Spezia e la marina militare che è cultura anche del territorio. Non solo, noi quest'anno abbiamo tenuto conto di quello che è un po' il soggetto delle giornate FAI di primavera, vale a dire un ponte fra culture e abbiamo ritenuto le navi come il mezzo per conoscere altre popolazioni e quindi altre culture e altre tradizioni. Il connubio con la marina militare ormai è da molti anni sempre a noi vicina e quindi abbiamo pensato proprio attraverso le navi di far conoscere questi altri aspetti insoliti, inconsueti che Nave Italia e Nave Bergamini rappresentano. Questo brigantino è lo strumento di un progetto, il progetto è dell'associazione Ollus Tender to Nave Italia che nasce nel 2007 dalla collaborazione fra la marina militare italiana e lo yachting club italiano. Viene appunto formata questa fondazione, la fondazione acquista il brigantino ed è il motivo per cui è armato con un equipaggio fisso di 21 militari professionisti, incluso me che sono il comandante. Ed è un brigantino che è stato costruito nel 1993 però con i criteri di un brigantino classico dell'Ottocento. Il Bergamini è una capoclasse di questo progetto, è una nave, è una fregata, multimissione e in funzione della missione adeguiamo la composizione dell'equipaggio così da poter avere a bordo eventuali elicotteri, forze speciali, forze della brigata Marina San Marco oppure lo staff, un ammiraglio che poi in mare possa assumere il comando di più unità navali e quindi una missione intera. Quindi può fare quello che in Marina definiamo la flagship, ovvero l'unità di bandiera con l'ammiraglio imbarcato, il sede di comando complesso.